segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la prima che hai detto necessità l'isla in nullismo armocromico proprio io non ho sentito una proposta concleta io a differenza di quello che sostiene il collega io non ho visto grandi proposte sul lavoro sentito solo una critica il salario minimo non è una proposta di ellis line anche conte ne parla di salario minimo anche alcuni esponenti del pd quindi non mi sembra questa grande novità novità ecco e la novità che io ho visto è una segretaria che fa le interviste su vog che certo non è una rivista del proletariato o dei lavoratori e ricattabilità mi sembra un termine un filo esagerato anzi diciamo proprio fuori luogo perché francamente non vedo in che modo questo decreto possa ricattare i lavoratori ha dato in busta paga poco tanto quello che poteva quello che poteva sì parliamo di renzi dei governi renzi draghi sì c'è stata una pandemia c'è stata un'inflazione che è sempre nata c'è stata una guerra quindi poco tanto ripeto quello che si poteva fare comunque sono stati tagliati per i redditi più bassi 7 e 8 punti del cuneo fiscale che non mi sembra proprio poco per redditi 35 mila sette punti insieme a quello che era già stato fatto in manovra stati cumulati e 8 punti ai redditi di redditi al di sotto dei 25 mila euro quindi parlare di ricattabilità è quanto meno inadeguato attendiamo con ansia le le proposte dell'opposizione del pd ovviamente del pd a come dire a trazione cgl perché conte si è già smarcato tant'è che non andrà in piazza con loro conte sta facendo un'altra giustamente sta facendo a bologna il 6 maggio si sta facendo il suo gioco fa bene a farlo io che trovo trova trovo già da mesi da anni che fosse sbagliato l'appiattimento del movimento 5 stelle sul sul pd questa fusione a freddo di cui parlava bettini no ci ricordiamo tutti conte leader pd io l'ho sempre trovato molto sbagliato secondo me il 5 stelle è un'altra cosa il conte fa bene a perseguire la sua strada come line vestiti armocromici permettendo farà bene a trovare la sua è all'opposizione giusto guarda ti dice una che ti parla una giornalista comunque per anni ha seguito melonia all'opposizione anche melonia all'opposizione ovviamente aveva dei toni talvolta esuberanti quindi io non critico cioè fa bene line a fare opposizione però io vorrei vedere anche proposte concrete al di là di parlare di ricatto che non c'è stato ovviamente e allora vi volevo leggere solo perché l'ha citato anche te